60 potenziali acquirenti di proprietà immobiliari che provengono sostanzialmente dagli Stati Uniti d'America sono arrivati qui a Pescara perché ci fu quell'articolo, anche quell'articolo in cui Città Sant'Angelo veniva definita il posto migliore in cui abitare, è un'occasione importante per un borgo come quello di Città Sant'Angelo ma anche per tutto l'Abruzzo. Sì, tengo a sottolineare che questa è un'iniziativa che vuole presentare l'Abruzzo. Poi Città Sant'Angelo è stata presa in considerazione proprio grazie a questa rivista che si occupa di immobiliare che questa mattina ha fatto qui a Pescara il convegno. È veramente con grande orgoglio che noi accogliamo questi investitori americani affinché si decidano a venire ad abitare in Abruzzo. Faremo di tutto per convincerelo stamattina. Io infatti ringrazio la Camera di Commercio di Pescara perché continua il lavoro che ha iniziato il compianto Daniele Becci. Secondo me questa è la strada giusta per far conoscere l'Abruzzo che io sostengo e ribadisco non conosce nessuno. Che carte abbiamo per fargli venire qui? La carta che abbiamo è la nostra regione, la bellezza, la cultura, l'ambiente soprattutto, la cucina, l'enogastronomia e perché no, la bontà della gente che la abita. Lei si è offerto di far fare un giro a Città Sant'Angelo nel suo paese? Sì, mi sono offerto di far fare un giro, possibilmente un'intera giornata per fargli vedere i posti, per fargli gustare i nostri prodotti, per fargli visitare le nostre aziende e per fargli ammirare il nostro paesaggio. Ecco, 60 investitori sono l'aperitivo, si spera che ne arrivino molti di più. Sì, si spera che ne arrivino molto di più, però è vero anche che dobbiamo mantenere sempre il livello e la qualità. Noi dobbiamo fare con investimenti qualitativi. Noi abbiamo oggi da offrire, oltre alle abitazioni, oltre all'ambiente, anche l'assistenza. Non ci dimentichiamo che non siamo secondi a nessuno nemmeno per l'assistenza medica, non siamo secondi a nessuno per lo shopping, non siamo secondi a nessuno per lo sport. Si scia guardando il mare in Abruzzo, c'è un campo da golf, quindi possiamo dare a 360 gradi a queste persone che decidono di lasciare la propria patria per venire in Abruzzo tutto quello che vogliono e tutto quello che desiderano.